boys momento altissimo per quale motivo sono con la maglia di ciccio e sto per andare a reagire al video di stepney dove gioca il 2.6 credo sia proprio la perfezione grax essere perfetto io vi chiedo un like l'iscrizione alla campanella se questo video supera 50.000 like vi prometto mano sul fire vi porterò una collaborazione con stefanino su clash royale dove giocheremo 2.6 faremo cose però like iscrivetevi come sempre una manciata di iscritti per arrivare un milione e mezzo taglio l'iscrizione attivate la campanella e seguitemi su instagram primo link in descrizione andiamo a vedere come gioca stefanino il mio deck preferito andiamo avanti qui sta maxando il deck ok ha messo gli scheletrini molto bene in realtà sono tre le carte fondamentali da potenziare il domatore ha ovviamente la win condition quindi più danni fa e più ha probabilità di vincere più vita più resiste e colpisce la fireball è fondamentale a livello 13 perché così può andare a one shottare le truppe di pari livello che vengono one shottate con la fireball tipo strega madre ma carciere mago di ghiaccio e così via e il moschettiere il moschettiere è importantissimo a livello 13 perché a livello 12 è one shottabile di fireball a livello 13 non prende la fireball in questo modo rimane con capello di vita e quel capello di vita può essere fondamentale sia per difendere che per attaccare averlo magari dietro al domatore questa è una cosa molto importante per quelli che hanno intenzione di potenziare le carte del 2.6 ma sto imparando però lui è livello 12 quindi trova player di livello 12 stefanino spreche log grax non lo fai pazzisco ci sta il moschettiere da dietro con gelino golem del ghiaccio da mettere a sinistra cannone scheletrini scheletrini steve vabbè ha preso una hit sul moschettiere ci può stare se avesse messo prima gli scheletrini il moschettiere non avrebbe subito danni sarebbe top il domatore dietro la torre così è il tempo di riciclarlo ci sta come dicevo one shottabile moschettiere al 12 molto forte perché è riuscito a uccidermi il moschettiere non è una cosa sottovalutata vai se se hit fatta ci sta non male come push qui era meglio il log adesso il log ci sta vai perfetto golem del ghiaccio domatore domatore se lui avesse fatto il doma jump sulla destra cioè mettendo il domatore sulla casella più a destra all'estremità o di destra o di sinistra in questo caso di destra con la tesla così centrale quindi non a tre caselle dal fiume ma a quattro mi sembra caselle dal fiume il domatore sarebbe andato dritto e ti cambia totalmente buono però stefano ce l'ha rega attenzione la torre elettrica è pazzesco come la torre elettrica scheletrini che sta succedendo ah palla di fuoco che arriva adesso buono il cycle vai prepara la fireball oh e la palla di fuoco mamma mia stefanino molto bene siamo leggermente in vantaggio stefanino torre elettrica messa in ritardo il log al ponte stefani facevi chip damage alla torre ma stefano ce l'ha rega qui avrebbe potuto pushare diretto golem del ghiaccio il domatore fireball sempre in push mai difensivo si fireball buono mamma mia quanto va il problema è che sta difendendo il domatore deve pushare siamo leggermente in svantaggio in questo dagli con la torre elettrica quanto mi riguarda non è assolutamente un problema perché l'ho grab oh miss click dell'avversario ha messo troppo tardi la fulmine cioè la fulmine la torre del fulmine va bene così va benissimo così cazziamo il cannone da oggi in poi io la chiamerò torre del fulmine dobbiamo stare attenti è vero con due hit quella torre va giù però lui adesso butterà sicuramente una palla di fuoco che colpisce il cannone vai log log cicla fireball butta butta tanto non te entrano sei counter torre elettrica al ponte attenzione ha rischiato stefanino qui ci può stare log 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 bravo però sti gran cavoli perché adesso la torre va giù in realtà ce n'avrebbe un'altra perché la ciclata esatto cannone era meglio il congelino però l'ha messo mamma mia che fare vince o perde mi sto a sentire male la nostra fireball abbiamo vinto la partita il 2.6 che si porta a casa la vittoria come la cicla una bella partita tra l'altro abbiamo vinto con una sola corona è difficile farne allora è un diamante un po' sporco stefanino però ce l'ha ce l'ha se riusciamo a fargli capire le difese giuste come utilizzare bene le carte per me può essere un ottimo player 2.6 molto sorpreso il grax abbiamo tra l'altro gli stessi occhiali seconda partita ma lui sprega il log ragazzi scheletrini domatore a destra sull'angolo qui non mi diritto ste destra destra l'angolino sta con calma va con calma va bene lo spiritello del fuoco potrebbe essere una partita un po' tosta sono sincero ma ci dobbiamo assolutamente provare ho sciottato no di livello 12 la far palla si hit entrato di livello 13 oppi il domatore cannone sul golem del ghiaccio bravissimo ste bravissimo è stato un bel problema potrà fare anche il contrario in quel caso lì c'è ha beccato 2.6 contro 2.6 me ne so accorto adesso vabbè ci sto si può fare raga secondo me lui mi ha danneggiato un po' entrambe le torri ma non ci interessa facciamo ciclare questa tronco un secondo lui parte da dietro col golem del ghiaccio allora parto da dietro sprega il log più di me non ci posso credere fireball su moschettiere e dovresti one shotarlo clean la sua palla di fuoco non tira giù il mio moschettiere dobbiamo dare davanti si ma se ti rialuterete c log pulisci ci poteva stare lì il log ci poteva stare cannone ok scheletrini fireball perfetta log buono riceve solo una hit penso potrei guardarlo per ore il 2.6 gioca a stepney fireball si impazzisco con gli scheletrini perché il cannone ti serve sul cannone sul domatore guarda quello scheletrino no ci poteva stare si cannone log quanto va golem golem del ghiaccio la sta controllando alla grande e è mirror match fireball pulisci cannone domatore e ci stai difese più tranquille sprechi troppo ste moschettiere davanti al moschettiere devi per forza mettere qualcos'altro a coprire e arriva anche la palla di fuoco palla di fuoco che ti porta 500 la base ok due colpi di hog rider e quella va giù va letteralmente considerate se lui invece di mettere il cannone lì lo mettesse una piastrella più a destra quel cannone farebbe ettare il domatore sia dalla torre di destra che dalla torre di sinistra cioè questo è un prodips molto importante quando si gioca contro un mirror match perché il domatore deve fermare per forza in quel modo una casella più a destra questo moschettiere è sprecato devo stare attento a come usare mamma mia partite tutte al cardiopalma lui ha sicuramente il cannone a disposizione fireball fireball buono domatore ce l'hai ce l'hai se ce l'hai se si 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 che difesa che ha fatto l'avversario incredibile anche l'avversario giova bene vinciamo anche questa partita ragazzi the 2.6 cicla alla grande porca miseria bella partita confermo allora io non so se lui si è allenato prima del video ma se queste sono le partite che ha fatto diciamo come prime partite da nessuno test fidatevi ragazzi è tanta roba fidatevi di grax è tanta roba allora io schifo tutto perché la potenziata aperto bauli mi sa che riusciamo a vedere anche in altra partita e poi stop video molto carino secondo me c'è sta ammazza quanta roba aperto stefanino eccoci qua contro livello 12 qui ste voglio vederti fare due torri il 2.6 di solito fa solamente una torre però su livello 11 se sei forte tronco è pronta per essere potenziata al 13 puoi farne addirittura due domatore al 10 voglio un super stefanino golem del ghiaccio bravissimo ci sta mini pecca questo lo asfalta se gioco come gioco prima scheletrini per ciclare va bene un'altra cosa che vi posso dire utilizzate lo spiritello per fare danni sulla torre che sia lo spiritello del ghiaccio oppure quello del fire mettetelo davanti perché lui arriva sempre a torre yes fireball in predict difeso la grazia mamma mia ragazzi cannone perfetto golem del ghiaccio davanti golem del ghiaccio corri ste di livello 11 comunque se prosciuga va giù anche il mago zap lo devasta lo devasta addirittura cambio lane doppio quit dai non ci voglio credere ragazzi spiritello tronco dovrebbe entrare no perché a livello 10 non entra niente incredibile potrei puntare alle tre corone ma è un po' azzardata come mossa bravo il 2.6 non punta mai le tre per quale motivo per quale motivo fa questa collia tranne se sei oiasso e prendi la torre con le fireball ma è impossibile quello però deve essere un livello lol jump lo vuoi difendere ce lo vuoi fare congelino congelino danni a sinistra allora se mette il cannone e difende ce la può fare cannone bravo log ok golem del ghiaccio golemita vabbè punta alle tre non è facile eh ma rischi Stefani ci dovresti forse riuscire ma la sua torre allora la potrebbe fare si congelino ce l'hai se ce l'hai se ooooh la palla di fuoco ha spostato il mini pecca ma non è stato sufficiente poteva farlo lit comunque il mini pecca sta davanti rischiosissimo fare le tre c'è il domatore carnaliena l'ha mandato veramente alla morte si doppio moschettiero ce l'ha fermiamo molto bene sono tre ragazzi so tre un altro colpo ed è fatta no fa il palla con una sfera infuocata questo video di oggi con tre corone bella partita e facciamo anche il tipo che mette i pollicioni in su no ho sbagliato ho sbagliato considerate l'emoticon quella che ha messo Stefanino della gemma è una delle più rare in assoluto perché solamente quelli che avevano ottenuto i punti del primo sistema di scalata l'avevano ottenuta se non ricordo male Gigi a Stefanino che vi dico ragazzi tre partite incredibili lui continua ad aprire vi lascio il link in descrizione se volete vedere anche la parte del box opening bravo si può lavorare si può molto migliorare però ripeto per essere un inizio sicuramente lo gioca molto meglio di me rispetto a come lo giocavo io ai tempi tempi quando stavo proprio all'inizio con le carte molto basse anzi addirittura io non utilizzavo il 2.6 ma avevo delle varianti non meta io vi chiedo 50.000 like per un video con Stefanino magari gli insegno qualche cosa che so io vediamo anche dei video di Oyasu iscrivetevi è gratis se ne mancano solo 40 siete un po' così e un po' di Rex attivate la campanella codici Crax e seguitemi su Instagram primo link in descrizione perché ci sono spoiler importanti un bacio da Crax con la maglia di Ciccio ciao belli ciao ciao ma io mi sono dimenticato la parte importante c'è un easter egg molto presto sfida con Crax e poi dobbiamo giocare contro Ciccio non con Ciccio contro Ciccio me sento Marco hashtag torre del fulmine nei commenti ciao belli faremo un video lasciate like ciao